Il Manfredonia perde e rovina parzialmente una bella e sentita giornata di sport sugli spalti. Dopo tempo in memore, riaprono i cancelli del Miramare. Primi ospiti, il Fasano e i suoi tifosi, uniti da uno storico gemellaggio con il pubblico di casa. Sono propri fasanesi a prendersi l'intera posta in palio. Battista fa felice Tiorzo all'alba della dipresa per quello che diventa il secondo successo consecutivo che sa tanto di cari saluti alla crisi di risultati. Grande atmosfera nell'impianto sipontino dove si affrontano due squadre che vogliono proseguire nei loro obiettivi. Dopo la mezza impresa di Altamura, Franco 5 ritrova Calemme a legare il gioco alle spalle del collaudato trio Balba, Carbonaro e Babai. Per il resto, formazione tipo con Orlando e Arnaiz ancora in panchina. Nel 4-2-3-1 di Tiozzo, Battista è l'ago della bilancia e motore della squadra. Qualità anche nei piedi di Melillo alle spalle della punta dorato. In mediana c'è il Lezzi accanto all'esperto Ganci. Tanto freddo sulle rive dell'Adriatico, ma temperatura che sale in campo e sugli spalti. Avvio davvero piacevole di Marcadonia. Poca roba, il destro in precario equilibrio di Balba. Meglio nella preparazione quello di Calemme, tuttavia alto. C'è anche il Fasano. Al 34esimo, Brignola offre un saggio delle sue qualità. Corsa, dribbling, ma mancino che termina la sua corsa sull'esterno della rete. Squadre lunghe e continui capovolgimenti di fronte. Amabile, va dal limite, ma Lazzar è bravo e si vede. Fascal pure, un Battista poco coinvolto in zona rossa. Il primo campanello d'allarme lo offre al 36esimo. Aggancia e tiro alla sua maniera. Al lato, davvero di niente. Batte Calemme dalla bandierina. Sbuca Giacobbe, che beffa tutti, ma non il palo. Pericolo scampato per il Fasano. Ultimo frame di 45 minuti davvero belli. Questa sassata su punizione di Battista, out non di molto. Sta entrando decisamente in partita il leader della formazione ospite. Conferma che arriva puntuale al cinquantesimo. Melillo avvia lo schema, Battista raccoglie e fulmina Paduano. 0-1 Fasano. Forse è determinante una deviazione nella circostanza, ma poco cambia. Gran gol. Lo svantaggio annulla completamente il Manfredonia, davvero incapace di reagire rispetto ad altre occasioni. Amabile, spara da fuori, facendo questa volta solo il solletico a Lazare. Tocca poi a Calemme su punizione, sparare a salve. Dentro a Schick, Orlando e Knights, ma la musica non cambia. Tanti attaccanti e di conseguenza voragini in contropiede per il Fasano. Lo Savio può far scorrere i titoli di coda, ma all'altro ne ho entrato Borelli si distende. Titoli che arrivano comunque pochi secondi dopo per suggellare la bella e prestigiosa vittoria dei Biancazzurri. Il Fasano allontana ha così pericoli e si dà una bella spinta verso i quartieri tranquilli della classifica. Per il Manfredonia è solo la seconda sconfitta in due mesi che non deve minare un entusiasmo ora ai massimi termini, complice il forse definitivo ritorno del dodicesimo uomo in campo. Nel prossimo turno, Angri Manfredonia e Fasano Bitonto.